Buonasera e benvenuti a questo nuovo video Oggi parliamo ancora di cinema, parliamo di film Voglio portare l'attenzione tra titoli Tra quelli che sto riguardando e guardando Perché uno per me è stata una novità Arrivato proprio fresco questa settimana Nell'ultimo anche post di arrivi nuovi Che vi ho pubblicato in questi giorni E quindi vi voglio consigliare Come Giova consiglia da poter recuperare E guardare a casa Cominciamo subito Allora, il primo film in cui voglio parlarvi È un film di qualche anno fa Parliamo di La mafia uccide solo d'estate È un film interpretato e gestito completamente da Piff Ed è un film che parla della storia La nostra storia, la storia italiana È una storia d'amore Un giovane uomo, Arturo Interpretato da Piff stesso Passa al racconto del suo tentativo Di conquistare Flora La ragazza di cui è innamorato È interpretata da Cristiana Capotondi Questa storia che si dipana in vent'anni In realtà è un palcoscenico Un scenario dove vengono messi in scena e raccontati Crudelissimi e molto importanti Fatti di cronaca Avvenuti in Sicilia tra gli anni 70 e gli anni 90 Quindi si parla di mafia Si parla di stragi di mafia Si parla di grandi drammi italiani Di grandi difficoltà dello Stato Di grandi difficoltà della società La maffa di cesione d'estate è assolutamente sia una fortissima denuncia Che un racconto di Attraverso gli occhi di questo ragazzino in realtà Di una situazione assolutamente complessa E una situazione di assolute forze in scontro Quindi su questo sfondo si dipane Erano anche tantissimi drammi del nostro paese Una storia che non è ancora finita Chiaramente perché la questione mafia Continua ad essere una questione, un problema E quindi devo dire che il film è magnifico Di una dolcezza assoluta Ha dei momenti di grande purezza Perché parte viene raccontata attraverso gli occhi di un bambino Arturo quindi cresce nel film Per cui Arturo bambino parla di Vede fatti persone O racconta attraverso i suoi occhi Eventi che sono successi, reali, fatti di cronaca Con una consoluta purezza Per poi arrivare a perdere ovviamente la purezza Questa purezza nella narrazione Per portare a un racconto anche molto duro Anche molto critico giustamente per una situazione Questa situazione Film stupendo Loro tutti bravissimi Un taglio notevole Sia come sceneggiatore, sia come regia Sia come storia, sia come narrazione Quindi assolutamente un film stupendo Il secondo titolo di cui voglio parlarvi È un film recente Che io ho appena visto in questi giorni È un film italiano anche qua E parlo di un fatto di cronaca italiana anche qua Parlo di Gli Uomini d'Oro Spero che riesco a metterlo a fuoco Gli Uomini d'Oro è un film corale di Alfieri Basato su un reale fatto di cronaca Del 1996 a Torino Dove il fatto alla base di questa narrazione Che è chiaramente romanzata Quindi non è un documentario È chiaramente un film Su la rapina alle poste Al furgone portavolore delle poste Fatto nel 1996 Trasformato in un film Il film è un film corale Un film di gruppo È un film molto duro Molto cupo È un noir sostanzialmente Un noir italiano Girato magistralmente Con un cast bravissimo Vi segnalo due interpretazioni Assolutamente fuori dagli schemi Per me I tre Anzi che io ho preferito Giampaolo Morelli Edoardo Leo E Fabio De Luigi Fabio De Luigi in particolar modo Sono tre figure coinvolte In questo evento Che ha visto appunto La rapina da parte di due dipendenti Delle poste Di un furgone portavolori Di cui loro erano responsabili Quindi un furto Da molti miliardi di lire Nel 96 In questa Italia Anni 90 Quindi Il calcio Quindi in realtà Situazioni familiari Anche magari Insoddisfazioni professionali Di queste persone Difficoltà familiari Difficoltà di salute Fabio De Luigi Fa un personaggio Assolutamente Nero Nel senso di Assoluta Cupezza narrativa Lui Esce Fabio De Luigi Noi lo pensiamo spesso Magari collegato a Figure leggere O comiche In realtà Fa una parte Drammatica Magnifica Lui è bravissimo E fa questo Questo uomo Assolutamente chiuso Nella morsa In cui si Si trova Ricolmo di una rabbia Devastante È una rabbia assoluta Lui Sfocia in questa Sua rabbia Perenne Lo stress Del suo Le sue Lavoro Le sue difficoltà di salute Le sue difficoltà di famiglia I suoi problemi Per cui in realtà Ha una rabbia Senza fine Per cui Va a sparare Col fucile nel bosco Ai barattoli Per sfogarsi Una figura Assolutamente Drammatica Una figura Assolutamente Fortissima Un Diciamo Dei parametri Sia attoriali Che scenici Non nuovi Per Luigi Perché lui è un attore Molto bravo Ma Non così comuni Cioè Non fa parte Di questo tipo E mi è piaciuto Tantissimo Bravissimo Il film merito L'ha visto anche solo Per la parte Di De Luigi Tutti gli altri Sono bravissimi C'è una serie Di comprimare Secondari Notevolissima Morelli Bravissimo Anche lui Che è il coprotagonista Dell'evento E Edoardo Leo Che fa questa parte Un po' più Suburbana Un po' più Noir Molto bravo Davvero anche lui Molto molto bravo E poi c'è Già Marco Tognazzi Che ha questa figura Assolutamente Diabolica Mephistofelica Di questo Figura D'alta società Diciamo Che in realtà È un doppio In realtà Chiaramente Nasconde Un lato oscuro Fortissimo Nasconde Figure di criminalità Organizzata Nasconde Una letalità Totale Il film è stupendo Il film è bellissimo Non è assolutamente Una commedia È un dramma È un film drammatico Non vuole essere un documentario E non lo è Quindi È basato su quei fatti Non è una rappresentazione Fedele di quei fatti Molto interessante Davvero davvero bello Sono bravissimi Sono contento Che il cinema italiano Riesca ancora a produrre Film di questa potenza Tanti miei conoscenti O amici Non amano il cinema italiano Degli ultimi 20-30 anni Posso capirlo E siccome ci sono Delle chicche Ci sono dei grandissimi Professionisti Con anni di esperienza Vi ho parlato In un giova consiglia Del film L'ultimo di Veronesi Stupendo Attori italiani Bravissimi Parlo di regia Sidney Sibilla Magnifico Ha fatto L'ultima cosa che ho visto Tutta la trilogia Ti smetto quando voglio Di cui vi parlerò Perché è un'opera Magnifica anche quella E anche Ma c'è tutta una serie di In realtà c'è Una forma professionale Altissima in Italia E sono contento Che film così Vengano Spinti anche commercialmente Vengano anche prodotti Con un'ottima qualità E investendo energie Su questo cinema italiano Di altissimo livello Gli uomini d'oro Film di altissimo pregio Una cosa interessante E siccome è molto veritiera E lo riassume bene È una frase che viene citata Nel DVD Da un articolo del 96 Di Repubblica Un giornalista scrive Se ne facessero un film Comincerebbe come I soliti gnoti di Monicelli E finirebbe come Le Iene di Tarantino E questo credo sia Un riassunto ottimo Di questo evento E di questo film Assolutamente un gioco Ok L'ultimo film di cui voglio Parlarvi oggi È assolutamente Un'opera Sempre È sempre Un'opera drammatica Quindi oggi parliamo Di storie un po' più cupe Non è Non è un dramma Nel senso che È quasi Un documentario attuale Il film di cui voglio Parlarvi oggi È un film Di Soderbergh Ed è Contagion Questo è il film di cui parla di oggi È un film Che parla Di Una situazione drammatica Sociale Collettiva All'apparire Di un virus Particolarmente Virulento e pericoloso Quest'opera Innanzitutto È uno specchio narrativo Di una forma Di grave disagio Che tutti stiamo vivendo Ancora adesso Un dramma Che il mondo Sta vivendo Ancora adesso Per la questione Ovviamente del Covid-19 Questo film non è Un disaster movie Quindi non è Un film Eclatante Non è un film Di massa È un film Un drammatico Assolutamente Magnifico Che rappresenta In maniera assolutamente Curata Un dramma Di una società Che si scontra Con un evento di questo tipo È un film che vi consiglio Di vedere Non perché in realtà Ve lo consiglio Perché è un bellissimo film Ve lo consiglio Perché Non da Che posso capire Che qualcuno possa dare ansia Visto il momento attuale Ma è un film che va visto Soprattutto perché Non si concentra Sugli elementi Diciamo D'azione Di una filmografia Diciamo Catastrofista Di questo genere Ok Ma Parla di Un dramma sociale Parla di un dramma sociale Con grande cura Grande attenzione Grande Delicatezza Quando ci vuole Ma forza Quando è necessaria Forza Parla di Una società in difficoltà Parla di Uno sforzo Di professionisti Che si mettono in pericolo Per cercare di Sopravvivere a questo evento Assolutamente Pericoloso Per il mondo Parla di Della pericolosità Di Ciarlatani Di figure Che spargono Fake news Per alimentare La paura E il panico O la disinformazione Parla dell'impegno Dell'informazione opportuna Quindi dell'impegno Di professionisti Che cercano Di passare Che passano Informazioni corrette Per garantire La sicurezza E parla di Questo Evento Io ve lo consiglio L'ho Rivisto L'altra settimana Perché me lo ricordavo Un film Estimamente fortissimo Molto bello Un cast Ma di attori Magnifici Che Twins Ed Gwyneth Paltrow Laurence Fishburne Matt Damon Jude Law O più Una serie di Marion Cotillard Se ricordo correttamente Una serie di Comprimari Incredibile Un lavoro Stupendo Girato Magnificamente Ed è un film Fortissimo Estimamente fortissimo A me piace A me è piaciuto molto Specie nell'ottica In cui stiamo vivendo Racconta Una fase 1 Per usare un termine Vicino Al nostro quotidiano Purtroppo Racconta La difficoltà Di una fase 1 Di un evento Analogo A quello che Il mondo Ha vissuto E sta vivendo In questi mesi Posso comprendere Quando ho raccontato A un mio amico Che volevo parlare Di questo film In questo gioco Consiglia Me lo ha sconsigliato Perché Dice che potrebbe Mettere ansia Io Non vi dico di guardarlo Se questo può darvi ansia Trovo che In realtà Sia Vivetelo come Un saggio Come un documentario Come vi ho consigliato Di leggere Spillover Di Quammen Nella reedizione Adelphi Che ho comprato io Ve l'ho consigliato Un paio di mesi fa Così vi consiglio Di vedere questo film Ma senza Portarvi dietro Ansia Per vedere Per vedere Quello che La rappresentazione Di questa cosa Vista dall'esterno Quindi visto Da un occhio Cinematografico Assolutamente Un film di tutto Un film Rispettoso Un film Corretto E un film anche Di denuncia Su alcuni aspetti Di questa Discussione sociale Difficile Alcune critiche Mette in luce Aspetti di difficoltà Ed un film che ho amato Che io amo molto Un film che a me piace Quindi assolutamente Ve lo consiglio Se non vi è piaciuto Se non vi piace Vi prego Ditemelo Raccontatemi Il vostro vissuto Raccontatemi Cosa ne Pensate Per me è un film Veramente Molto bello Amici Io vi ringrazio Per il vostro tempo Io vi ringrazio Per avermi ascoltato Fin qui Spero di avervi Intrattenuto Con questo Giova Consiglia Spero siate tutti bene Spero che tutti voi Le vostre famiglie Stiate in forma Qui dal Giova È tutto Vi ringrazio ancora Per il vostro tempo E la vostra cortesia Buona giornata E buon tutto Pace amici